Nicola Molteni, lei ha presentato dei dati, dei numeri sulla presenza di questi clandestini che sono arrivati nel nostro paese? Abbiamo tentato di raccogliere con grande difficoltà i numeri di questa vera e propria invasione di massa che si sta verificando ormai da un anno e mezzo. Nel 2013 e nel 2014 sono stati accolti attraverso l'operazione Mare Nostrum in Italia più di 53 mila immigrati clandestini e parliamo volutamente di immigrati clandestini e non di migranti o di profughi, sono immigrati clandestini illegali entrati illegalmente. Più di 10 mila dall'inizio dell'operazione Mare Nostrum, quindi dal 18 ottobre del 2013 e in questi primi mesi del 2014 siamo già a 10 mila. 10 mila immigrati clandestini che sono stati accolti sono stati poi distribuiti sui vari territori, tra cui nelle ultime 72 ore più di 1.500 al nord che sono stati distribuiti nelle varie province del nord senza il coinvolgimento da parte degli enti locali, senza il coinvolgimento da parte dei sindaci, senza il coinvolgimento da parte delle regioni. Sono immigrati clandestini che vengono accolti, che vengono coccolati, che in molti casi sono stati portati anche all'interno di alberghi a quattro stelle. Immigrati clandestini che costano ogni giorno alla comunità e vengono pagati coi soldi dei cittadini italiani, parliamo di circa 30 euro al giorno per vitto e per l'alloggio, 15 euro per le ricariche telefoniche e 2 euro e mezzo per i pocket money. Quindi non ci sono i soldi per la nostra gente, abbiamo i nostri giovani, i nostri anziani sotto un ponte e invece nei confronti dell'immigrato clandestino c'è la massima accoglienza. Denunciamo pertanto questa politica di invasione folle da parte del governo Renzi, da parte del ministro Alfano, la denunciamo con forza, questo è il governo che sta favorendo il sostenente politico e fie migrazioniste, sta sostenendo tutta una serie di provvedimenti svuotacaci per rimettere in libertà i criminali, stanno smantellando tutti i presidi di sicurezza. Oggi siamo di fronte a un vero e proprio smantellamento da parte di Renzi e Alfano dei più elementari principi di sicurezza e di ordine pubblico sul nostro territorio. La Lega è rimasta l'unico baluardo, l'unica forza politica a difendere la sicurezza dei cittadini. A questo ci aggiungiamo anche l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, voluto dal Movimento 5 Stelle, sostenuto dal Partito Democratico, sostenuto dal governo e dal ministro Alfano. Anche qua l'unica forza politica che si sta battendo e sta combattendo per mantenere quello che c'è in tutti i paesi europei, ovvero il reato di immigrazione clandestina, è la Lega. È una battaglia in solitudine, ma è una battaglia giusta e corretta che noi faremo per la sicurezza, la libertà e l'ordine pubblico dei nostri cittadini.